L'Arte d'Amare è un libro scritto dal filosofo psicanalista tedesco di origine ebraica Erich Fromm, scritto nel 1956. Qual è l'argomento, qual è il contenuto dell'opera? L'amore non è un sentimento al quale ci si possa abbandonare, ma richiede un alto livello di maturità. Questo è quello che sostiene Erich Fromm. Nel volumetto, edito dalla Mondatore, ci sono tre capitoli, anzi in realtà sono quattro. Il primo capitolo pone questo interrogativo, è l'amore un'arte, secondo la teoria dell'amore? L'amore e la sua disintegrazione nella società occidentale contemporanea? Ed infine il quarto capitolo, la pratica dell'amore? La lettura di questo libro potrebbe essere una delusione per chi si aspetta un insieme di istruzioni sull'arte di amare, una sorta di ricettario. Al contrario, Fromm vuole dimostrare che l'amore non è un sentimento al quale ci si possa abbandonare senza un alto livello di maturità, e che ogni tentativo d'amare è destinato a fallire se non si cerca di sviluppare in modo attivo la propria personalità. Ed anche che la soddisfazione nell'amore individuale non può essere raggiunta senza la capacità di amare il prossimo con fede, umiltà e coraggio. Fromm appunto si chiede l'amore è un'arte e se sì allora bisogna considerare lo sforzo che si tende per imparare una qualsiasi arte. La gente pensa che l'amore non conti, non sia importante, ne sente comunque un gran bisogno. Questo spiega il successo di film d'amore, felice e infelice, insomma delle canzoni d'amore, eccetera, eccetera. Questo atteggiamento si basa su parecchie premesse errate, secondo Fromm. La maggior parte della gente ritiene che amare significhi essere amati, anziché amare. Di conseguenza per loro il problema è come farsi amare. Per raggiungere questo scopo seguono parecchie strade. Una preferita, soprattutto dagli uomini, consiste nell'avere successo, nell'essere ricchi, potenti. E' insomma conquistare ad un oggetto ricorrendo, facendo ricorso alla potenza economica, politica, sociale. Un'altra seguita dalle donne invece di rendersi attraenti, coltivando la bellezza, il trucco, la seduzione. E quindi conquistare l'uomo oggetto ricorrendo all'immagine. Il primo passo è di convincere che l'amore è un'arte, così come la vita è un'arte. Se vogliamo sapere come amare, dobbiamo procedere con disciplina, con metodo, come se imparassimo una qualsiasi arte, come la musica, la pittura, o anche la medicina, eccetera. Grazie. 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 Grazie.